Presidente Zanni per il gruppo ID. Grazie Presidente, mi sembra che sia il Parlamento dall'inizio di questa legislatura sia la nuova Commissione abbiano puntato molto sull'organizzazione di questa conferenza facendo percepire che questo sarà un pilastro del programma dei 5 anni e un pilastro di una riforma dell'Unione Europea di cui composizioni e outcome ovviamente diversi però tutti i partiti e tutti i gruppi rappresentano la necessità. Io però non credo che questo esercizio sia utile a dare risposte a quello che i cittadini ci hanno comunicato in questi anni e soprattutto con le elezioni di maggio. I cittadini non ci hanno chiesto di organizzare conferenze, di organizzare dibattiti, di organizzare agora ma sono anni che ci chiedono risposte concrete, che ci chiedono azioni. Allora non è un problema di ascoltare i cittadini, sappiamo quello che vogliono, è un problema politico, un problema che queste istituzioni non sono state in grado in questi anni di dare risposte concrete, di fare politica, di rispondere ai tre grandi problemi che i cittadini europei oggi stanno affrontando. Quello della crisi economica, quello della sicurezza interna e quello dell'immigrazione che è un tema che a mio avviso manca anche nella risoluzione del Parlamento e che non può essere ignorato. Io credo che questo tipo di esercizio possa aver senso se prima di fare proposte questa aula e queste istituzioni sono in grado di fare una profonda autocritica su quello che hanno sbagliato in questi anni perché di errori ne sono stati commessi e sono stati errori gravi che hanno portato il continente a sprofondare, a non contare più nulla sullo scenario politico internazionale. Se non capiamo che le riforme che la politica ha portata avanti negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che indebolire gli stati, che indebolire il nostro continente, che rendere i nostri cittadini più poveri, qualsiasi proposta che andremo a discutere sarà solo un esercizio di marketing che non avrà nessun senso. Io credo che l'obiettivo sia capire dove si è sbagliato e purtroppo le istituzioni ancora oggi non hanno fatto una profonda autocritica. Capire che, al contrario di quanto diceva il mio collega Dei Verdi, il tema non è creare uno Stato federale, quello che non vogliono i cittadini, quello su cui i cittadini quando sono stati chiamati ad esprimersi si sono sempre detti contrari, ma che debba ripartire dalle nostre identità, debba ripartire dalla consapevolezza che senza gli stati, senza le nostre nazioni, senza i nostri popoli l'Europa non esiste. Grazie.